I danni fisici sono stati contenuti, ma i danni sono ingenti e la viabilità è andata in tilt. È questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto in mattinata in via Leazzari, a Pallanza. All'incrocio con via Olanda, dove da poco è stata ridisegnata la rotatoria, proveniva dal ponte del Pluash una dacia condotta da una donna residente a Verbania di origine ucraina. L'automobilista non ha dato la precedenza a una BMW Serie 1 che... Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.